Buongiorno a tutti ragazzi, oggi vi ho dato come al solito un bel po' di informazioni da guardare e da studiare. Che cosa si evince da tutte queste informazioni? Che quello che abbiamo analizzato piano piano si sta costruendo, cioè i settori che hanno corso di più stanno prendendo fiato, mi riferisco principalmente al settore tech, al settore Nvidia, eccetera, eccetera, quindi semiconduttori, mentre stanno spingendo con maggiore forza il tema delle materie prime. Quindi abbiamo un oil molto forte e nella giornata di ieri anche il rame ha spinto esattamente in concomitanza con la ripartenza della Cina che sta continuando a macinare, sta continuando a crescere con forza. Quindi lo scenario più probabile e di maggiore forza in questo momento è una ripresa di forza del mercato cinese e quindi relativo indice che ha sottoperformato in maniera importante. Qua ci potrebbero essere delle accelerazioni importanti perché nel momento in cui cominciavano a farsi delle performance e tenuto conto che la maggior parte dei fondi è scarico di Cina, potrebbe esserci una corsa veloce alle ricoperture per evitare di rimanere fuori dal benchmark di riferimento. Quindi se la Cina dovesse continuare più continua e più si porterà dietro altri investitori. Il suggerimento è sempre quello di non so esagerare troppo con le size, di avere un piano preciso, di essere presenti nel mercato cinese, di avere un piano preciso senza esagerare, farsi ingolosire da potenziali guadagni ma non si sa se effettivamente continuerà la salita, quindi sempre cautela. Dall'altra parte ripeto, la salita delle materie prime sta facendo bene alle basic reserves in generale e sta facendo rifiatare altri settori. Per quello che concerne il tema del debito, un giorno si sale, un giorno si scende, sta di fatto che invece il mercato dei bond rimane più o meno in laterale. Qualche giorno sale di rendimento, qualche giorno scende, però come vi dicevo ieri non si notano degli scostamenti importanti. Quindi dal punto di vista di scenario è probabile che il prossimo trimestre, ricordo che questo venerdì è un venerdì molto importante di scadenze tecniche, verrà confermato questo scenario e quindi avremo questa sorta di rotazione dove le aziende più industriali, per intenderci il Dow Jones, salirà di più rispetto al settore tech, di cui non mi aspetto dei crolli ma mi aspetto diciamo una sorta di fase di lateralità. Quindi fondamentalmente quelli che sono rimasti indietro cercheranno di avvicinarsi a quelli che hanno corso di più. Però sotto, sotto tutta questa dinamica, c'è uno scenario che è uno scenario preoccupante che non avverrà secondo me oggi ma avverrà nei prossimi 3-6 mesi, questo i tempi esatti non li posso sapere, cioè lo scenario inflattivo, perché oggi il mercato, tutti quanti stanno sempre discutendo su quanti tagli ci saranno, quando verranno fatti, prima erano a marzo, poi erano aprile, poi sono a giugno, poi sono a luglio, adesso si parla di settembre, prima erano 8, poi sono 7, poi sono 5, poi sono 4, poi sono 3, sono 2. La mia sensazione è, vedendo semplicemente i numeri, è che oggi abbiamo un'inflazione stabile, quindi questi sono i valori e non scende da questi valori. Ma abbiamo un aggravante, l'aggravante che con la partenza della Cina le materie prime stanno salendo, ricordo che quest'anno il petrolio sta già facendo più 12-13 punti percentuali e a mio avviso ha rotto delle resistenze, quindi è probabile che ne faccia 15-20 aggiuntivi a quelli attuali, se a questi ci andiamo a sommare la salita di tutte le altre materie prime, tra cui anche quelle agricole che quindi vanno a incidere anche sul food, a mio avviso ci troveremo a un certo punto in cui quando questi aumenti di prezzi verranno trasmessi all'economia, cominceremo a avere dei dati inflattivi a sorpresa in crescita. Quindi mentre il mercato si è preparato ad uno scenario di taglio dei tassi, quindi investitori con porto a scadenze lunghe, tutti pronti al ritaglio dei tassi, a un certo punto la domanda da porsi oggi è se invece di scendere l'inflazione o di rimanere statica comincia a salire da 3, passa 4, passa 5, passa 6 punti percentuali, la domanda è che cosa faranno le banche centrali? Ecco, questa è una domanda molto importante da porsi oggi, ma soprattutto che cosa faranno i mercati? Dal mio punto di vista questo sarà lo scenario che per me è abbastanza prevedibile, ma ovviamente i mercati stanno o credono di stare alle parole delle banche centrali, però se questi dati continuano ad aumentare inevitabilmente l'inflazione andrà ad aumentare e secondo me i maggiori danni, sì ci potranno essere anche sull'azionario, però la differenza qual è che l'azionario è molto flessibile, anche se scende di 30-40 punti percentuali poi li recupera, mentre secondo me i danni più gravi questa volta verranno fatti, dico in generale, sempre sull'andamento dei bond, perché i bond soprattutto sulle scadenze lunghe, ripeto, nel momento in cui scendono e scendono con forza la probabilità che poi recuperino è molto più lenta, ci vuole molto più tempo e quindi bisogna fare attenzione, quindi questa salita dell'inflazione secondo me coglierà un po' tutti di sorpresa, costringerà le banche centrali a non fare nessun taglio dei tassi, anzi se dovesse salire molto, e questo non lo sappiamo ancora oggi, perché dipenderà dalla forza con cui saliranno le materie prime, potrebbe costringere a fare altre manove di natura restrittiva, tenuto conto anche in che leggevo un articolo sulla banca centrale europea che diceva che loro non reinvestiranno il PEP e che dovranno temporeggiare perché comunque i bilanci delle banche centrali fanno parecchio schifo e quindi devono fare anche attenzione loro a pompare denaro, siccome comunque sono delle società private, a questi privati non fa tanto piacere perdere denaro, l'abbiamo visto con la banca centrale svizzera che ha fatto per il secondo anno dei bilanci in rosso, l'abbiamo visto con la banca centrale europea, l'abbiamo visto con la banca centrale americana, quindi è vero che le banche centrali possono pompare denaro, però ricordo a tutti che le banche centrali sono partecipate da soggetti private e i soggetti privati non vogliono perdere denaro, mentre con queste manovre che sono state fatte di acquisti indiscriminati di bond e poi sui rendimenti sono saliti, hanno perso un fracasso di soldi e quindi prima di ritornare a comprare sul mercato ci penseranno attentamente, cercheranno di fare in modo che i bond vadano avanti, vadano sempre più a scadenza, di modo che loro possono andare a recuperare le loro perdite. Quindi non è oggi ma fra 3-6 mesi a mio avviso la probabilità di rivedere un'inflazione in salita e anche in forte salita, soprattutto se le materie prime saliranno come sembra con decisione sarà molto molto elevata, mentre da qua ai prossimi mesi ci aspetterà semplicemente una bellissima rotazione settoriale, quindi vi ho indicato ci sono tanti settori che secondo me possono fare molto bene, di alcuni per esempio nel settore oil vi ho indicato l'ETF ma vi ho dato anche qualche idea di qualche titolo e questo sarà un po' il tema che ci accompagnerà con sale e scendi ma da prediligere il settore industriale rispetto al settore tech.